Allora agricoltura e commercio, l'intenzione di questa amministrazione è utilizzare i terreni di seriate pochi, tra virgolette, rimasti liberi come area verde da salvaguardare o come area rurale o da destinare a riconversione ecologica della produzione dell'economia del territorio. Il Comune che cosa vuole fare? Questa coalizione vuole sostenere un proficuo incontro tra domande e offerta locale, promuovendo un legame diretto tra produttori locali, cittadini e piccolo commercio. Pensiamo anche agli orti in bottega. Divulgare un diverso modo di consumare attraverso assemblee pubblico o interventi didattici nelle scuole. Questo perché? Perché la sensibilità a queste nuove forme di commercio o di sfruttamento dei territori o di un'alimentazione di un certo tipo deve partire dalle scuole. Altra cosa importante per le attività commerciali che come ho detto prima stanno subendo sicuramente una depressione per la crisi è cercare di metterle insieme, unirle, trovare strategie comuni attraverso le reti di impresa.